A Fiorenzuola sono ripresi i lavori per realizzare il nuovo centro islamico in via Gobetti. Il cantiere che si era fermato in agosto per la fine delle risorse a disposizione è ripartito a marzo e ora procede spedito, riguarda l'installazione degli infissi, degli impianti elettrici e idraulici e l'adeguamento alle norme anti-incendio. I responsabili contano di aprire il nuovo centro per il Ramadan che avrà inizio a fine maggio, tra circa due mesi. Vogliamo ultimare il piano rialzato e ottenere l'agibilità per far sì che possa ospitare le nostre attività durante il mese di digiuno e preghiera della nostra comunità, ci ha spiegato infatti l'addetto sociale Nuredino Omri. Attualmente la sede di riferimento è in via Papa Giovanni XXIII, la nuova sorgerà su quattro piani, ciascuno di 250 metri quadrati.